Mi capita spesso di incontrare degli agenti che dicono di non riuscire più a motivare i loro collaboratori. Devo dirti la verità, questo non mi stupisce per niente, anzi mi stupisce il fatto che loro pensino di essere riusciti a motivarli in passato. Perché dico questo? Perché la motivazione è un fatto interiore, non può arrivare da un terzo. Anche se questi fosse uno dei famosi guru della motivazione, quello che eventualmente riuscirebbe a fare è accendere un fuoco di paglia che poi è destinato a spegnersi. Quello che invece è fondamentale è aiutare il collaboratore ad automotivarsi. Come aiutare il collaboratore ad automotivarsi è una delle cose che noi spieghiamo in assicuratore vincente. Se tu hai, se sei un agente, se hai dei collaboratori e vorresti che questi riuscissero ad avere sempre una motivazione alta perché si automotivano, allora scrivi info nei commenti e verrai contattato dal nostro consulente. Ciao!